Ripstop! Telefono! È un telefono? Sì, un momento! Oh, rip! Oh, rip! Ti vogliono il telefono! Chi è? Chi? Chi è? Ah, non lo so! E va a chiederlo! Ah, sì, vado! Corri! Ah, sì, certo! Vado! Quanto? Signor Toc? Chi lo vuole? Casa editrice Murdoch! Ah, sì, 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 un minuto! Ehi, si chiama la casa editrice Murdoch! Che ti avevo detto? Con la tua bellezza e la mia bravura troveremo un posto! Cosa vogliono? Non l'ho chiesto! Non l'hai chiesto? Beh, va a chiederlo! Ah, certo! Vado! Non lo so che cosa volete, eh? Il signor Murdoch vuol sapere se il signor Toc può incontrarlo? Sì, un minuto e glielo chiedo! Allora, cosa vuole? Va a incontrare se non muro! Va a incontrarlo? Ma certo che lo incontrerò! Dove? Quando? Dove? Non lo so! Beh, va a chiederlo! Vado! Vado! Quando? Dove? Quando? Dove? Oh, il signor Murdoch vuol sapere se il signor Toc può incontrarsi con lui al club Cicogna fra un'ora! Vado! Come 오늘! Come 오늘! A presto. Che cosa ha detto? Cosa ha detto? Su, parla zato, perché ha detto? Parla! Non ti sento, dimmi, fammi dei segni, presto! Cosa ha detto? Eugene, cosa ha detto? Su, fammi, fammi dei segni, svegliati! Bene! Anatra, una, un'anatra, sì! Un'anatra, un'anatra! Vuol dire, vuol dire violenza? Omicidio? Frustata, frustata, padrone? Sì, il padrone! Eh? Ah, il padrone! Il padrone! Sì, il signor Murdoch! Sì, era lui al telefono! Beh, che voleva? Che voleva? Che voleva? Una vacca? Murdoch voleva una vacca? Vuol mangiare una vacca? A che cosa gli serve una vacca? Vuol mangiare me? È così? Cosa? Che diavolo vuole? Che? Ah, vuol mangiare? Come? Come? Che accidenti fai dentro al bagno? Insieme? Vuole stare insieme? Ah, Murdoch voleva stare con me! Dove? Dove? Calma, non eccitarti! Dov'è che vuole incontrarmi? Lì fuori? È lì fuori adesso? Dove? Vuole incontrarmi in volo? Dove? Oh, sei una cicogna! Ci sono! Murdoch mi aspetta al club cicogna! Esatto! No!